Facciamo qualcosa di concreto, in nome di Giulia, per tenere sempre il ricordo di Giulia. E' anche un modo per occuparci di Giulia. Anche se ritornato qua è come ritornare bene, però si va avanti. Andiamo avanti con questa forza, aiutando appunto a bandire i bambini, perché voglio veramente vivere la prossima.